Mi piacerebbe sapere Che effetto vi fa? Sentire dire certe cose se le dico io, da qui Cosa succede se dico coscia e se dico puttana? Cosa vi succede se invece dico puttana? È lo stesso? Forse sì, forse no Forse, 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 forse Allora ci sono i maschi e le femmine E poi ci sono tutte le sfumature intermedie Tra questi due poli opposti Forse, 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 forse Forse sì E quindi più maschi e meno femmine O più femmine e meno maschi Come me lo spiegherei Ma io sono di parte Che effetto vi fa? Sapere che la storia Non è servita Non è servita nulla Ancora a poco? Come si dice nel linguaggio misogino? È un cazzo Sì, perché quando bisogna trovare dei termini Che indichino forza Usiamo Con le palle Cazzuto E che effetto fa? Ma ve lo siete mai chiesti? Perché? Beh Non è servita la storia? Non è servito che uccidessero Sessantamila streghe Sessantamila donne Solamente meno pedienti Di tante altre serve Solamente colpevoli Di aver trovato un uomo sbagliato Potente, feroce Non è servito nulla Bla 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 Perché noi siamo qui ora Noi Noi Siamo qui ora A raccontarcelo ancora una volta E non sarà l'ultima della storia Allora se vuoi Puoi uscire di qua E rimani La stessa Sempre gli stessi Maledetti Esseri Umani Esseri maledetti Essere maledetti O forse no Io vi osservo Osserverò La pazzia L'ha già scontata Medea per me Ed ora Io mi limito ad osservare E a far notare L'ha già scontata E a far notare La pazzia La pazzia Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.